Buongiorno, sono Monica Boraso, responsabile marketing iDair Italia. Sono qui per presentarvi la nuovissima linea iDair Altitude. È una linea estremamente raffinata, un concetto di lusso negli sport invernali, in particolare vorrei porre la vostra attenzione al modello donna Nakiska. È una giacca in defender pair, una giacca molto calda, tuttavia estremamente femminile, una ricercatezza nella scelta cromatica, nei dettagli, un'imbottitura in piuma d'oca, 90-100, con una fodera ripstop, che permette alla piuma di rimanere nei suoi comparti, senza evitare il fastidioso perforamento del tessuto. La struttura interna della giacca presenta una ghetta paraneve importantissima, essendo un modello dedicato proprio allo sci. Un modello sofisticato per la sciatrice più esigente, cappuccio staccabile con un contorno in pelliccia rigorosamente eco, una linea, ripeto, estremamente importante per il nostro marchio e sempre seguendo il motto, look good, feel good, cioè sentiti bene nei capi giusti. Grazie.